Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Sono tornato col ventilatore bruttissimo lì dietro, la tendina, meno male che non si vede c'è un pleno di luce Comunque nel vecchio ambiente, come se vi ricordate, dove facevo video qualche anno fa Insomma durante la fase di gameplay o quando comunque trattavo videogiochi qui su youtube Anche perché, scusate, ma sopra ci sono veramente 50 gradi, ma più che 50 gradi c'è un'umidità della madonna nel soppalco E non essendo condizionato, la stanza è condizionata ma l'aria fredda su non ci arriva per niente È praticamente impossibile farci il video, come vedete ci ho fatto l'unboxing e tutto quanto e il gameplay del gioco Però c'è veramente troppo 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 caldo, infatti per ora mi sono spostato giù Comunque, ciancio alle bande o banda alle ciance, oggi vi voglio presentare Si vede? Che non c'è mia moglie, sto facendo delle riprese che quando le vedrà lei dirà ma che cacchio stai facendo Un gioco della Portal Game è portato in Italia dalla Pendragon Game Studio Che tra l'altro ringrazio veramente di cuore per avercene fornito una copia per la recensione Grazie ragazzi, è sempre veramente un onore collaborare con voi Mi fa piacere anche che dopo il primo video che abbiamo fatto avete voluto mandarmi anche questo appena l'ho chiesto Quindi grazie veramente di cuore, ne sono onorato Tra l'altro è veramente buono, tra l'altro la scatola è bella pesante Per quanto non ci sia tantissima roba a livello di dadi, token, pezzi di mappe e tutto, sì Però miniature ce n'è veramente poche, ma anche l'essenziale Perché che miniature vuole mette in un gioco ambientato su Marte? Le rocce, i sassi, una volta che ci ha messo una base, un rover, una cosa del genere Gli astronauti basta, avanza Comunque è veramente bellino come scatola che poi non è nemmeno tanto grande È bella colorata e quello che mi ha tirato la prima volta è il disegno che c'è sopra Che questi astronauti appena arrivati su Marte, appunto i primi marziani, i first Martians Che vanno, trovano un hub e devono costruirlo per ampliarle È veramente una figata, infatti come racconta un po' Ah, gioco ovviamente a base scientifiche Quindi dimenticatevi sci-fi, zombie o fantasmi su Marte e cose strane E la cosa bella di questo gioco è che prende a piene e mani Intanto vi consiglio di guardarvi la serie Marte Che sono uscite due stagioni, sì sì c'è anche la seconda Due stagioni su Netflix bellissima Che tra l'altro è questo gioco qui Il gioco prende ispirazione ma perché ovviamente non è il tanto il fatto dell'ispirazione Ci sono delle basi scientifiche in mente C'è il progetto SpaceX di Elon Musk più tanti altri Che entro il 2036-2037, arrotondiamo Insomma, in quei dieci anni che vanno dal 2030 al 2040 Speriamo ad esserci ancora Vorrebbero portare la prima colonia di umani su Marte Però ovviamente è un lavoro molto lungo Anche perché prima devi intercettare la finestra di lancio Perché se no il viaggio durerebbe troppo E un viaggio per Marte è bene che ti vada comunque dieci mesi Nove-dieci mesi te li porta via, se non anche un anno Poi c'è da vedere se gli astronauti riescano a non impazzire Perché non esiste l'ipersonno, quello è Alien Quindi dovrebbero, sì, dormire Ma vi immaginate dentro la nave spaziale a gravità zero Perché anche quella è fantascienza Non c'è gravità nello spazio Non è come in tutti i film che hanno la gravità artificiale Quella specie di ruota che gira intorno alla nave Allora ti tagganci al sole e puoi camminare Cioè ti immagini a stare senza gravità per un anno intero della tua vita Come scendi in un pianeta che ha una gravità anche minima Infatti si spezzano l'ossa completamente tutte Quindi è un problema portare l'uomo su Marte E poi ovviamente arrivati laggiù che fanno? Cioè non gli basta l'ossigeno della nave e delle tute per sopravvivere Glielo fai trovare un hub Quindi prima dovrebbero mandare un'altra missione con dei robot se pensato Con dei robot o dei rover che costruiscano un piccolo hub principale Così che quando gli astronauti arriveranno al campo base Avranno già l'hub funzionante Da accendere, fornito di ossigeno funzionante E poi da espandere Insomma un discorso bello grande Comunque è un gioco scientifico Ed è un gioco che vi devo dire la verità Dopo un paio di partite Ho iniziato a capirlo bene Perché è un pochino ostico Ma non perché le regole siano difficili Le regole del gioco sono facilissime ragazzi Sono due Io dico è una perché Poi vedrete durante il gameplay Però sono veramente poche Si contano su una mano Però ci sono tante cose da tenere sotto controllo Ce la farò ammetterlo Da tenere sotto controllo e da controllare Quindi forse per quello è più complesso che non complicato Però è veramente un bel gioco E ringrazio ancora una volta davvero di cuore la Pendragon Unboxing Come vedete la scatola di dimensioni abbastanza ridotte Quindi una scatola tra l'altro molto bellina Compatta Vi faccio sempre vedere comunque con rapportata la dimensione della mia mano Che non ho nemmeno le mani giganti Quindi alla fine è veramente una scatola piccolina Però ha tutto all'interno tutto quello che deve contenere Per una bettazione secondo me che è molto caratteristica Il layout della scatola è bellino Lo vedete Si vede questa base in costruzione Con un hub principale e tutto il resto Perché lo scopo del gioco è quello appunto di sopravvivere Non tanto vivere Perché questa è la prima ondata di umani che arriveranno su Marte E quella di sopravvivere al pianeta rosso Apriamo All'interno del gioco vedete il manuale Che è facile Veloce veramente Questo gioco ha poche regole È complicato Ma questo vi dirò perché ve lo dirò alla fine Non complicato a livello di regole Però come dico sempre Tra l'altro guardate bello tutto quanto colorato Fatto bene Tra l'altro pieno zeppo di esempi Anche di facile lettura Il gioco non è complicato Perché le regole sono difficili Questo gioco ha una regola soltanto Una veramente che non scherzo Che poi vi andrò a dire Il problema è che sono tante cose da tenere a mente E potrebbero scoraggiare più Comunque un gioco discretamente semplice Vedete davvero Per me è molto molto semplice Tante persone reputano difficile Io ho trovato più difficoltà in altri titoli Che non in questo Due manuali per la modalità campagna Parte 1 e parte 2 Non le leggete assolutamente Se non giocherete la modalità campagna Che rispetto al gioco normale Dove ci sono varie missioni scollegate Che potete giocare come vi pare a voi Questa qui è una modalità legacy Che vedete ci sono le due campagne In più delle buste chiuse Quattro buste chiuse e due per ciascuno Quindi non apritele assolutamente Almeno che non vogliate giocare alla campagna Perché questo è un livello legacy Ovvero una volta giocato Non si potrà rigiocare un'altra volta Tabellone di gioco Che tanto ragazzi A breve ve lo faccio vedere Bello aperto e steso Il gioco tutto quanto si è tappato Schede indicative delle varie missioni Quindi tutte le varie missioni che ci sono nel gioco Schede che se volete Potete anche Le dovete utilizzare per il conteggio dei soldi Le turni che passano Ma potete anche mettere da parte Perché tanto è tutto quanto riassunto Nell'app Che vi ricordate come vi ho detto all'inizio Questo gioco funziona con un'app Token vari Di danni, rotture più che altro Più le varie zone di esplorazione All'esterno del lab principale Quindi dove vi potrete spostare A bordo del rover Per esplorare Marte Zone varie del lab Dentro la stazione su Marte E tutti quanti i vari token Che vanno a vedere le zone d'arresto Ovvero i settori broccati E tutte le altre zone che dovrete attivare E fare soprattutto un'attenta manutenzione All'interno del gioco Carte Che comprendono avarie Carte malfunzionamento E quant'altro Dadi Per quanto non ci sia da fare Particolari tiri di dado In questo gioco qui Ce ne ha tanti e colorati Anche perché per ciascun colore Ogni dado praticamente È collegato a qualcosa Tipo quelli verdi sono per l'esplorazione Quelli rossi di solito Giallo e arancione Sono per i danni alla struttura Alle avarie E così via Hub principale Più i due piccoli rover Queste qui sono le uniche figure In 3D che ci sono all'interno del gioco Però bastano Avanzano e sono belline Pedine colorate Che sono praticamente I vostri personaggi Ciascun giocatore Ce ne ha due Due a testa Più altre colorate Che sono ovviamente Per altri oggetti Che potete utilizzare Tipo i droni E macchinari Per costruire all'interno Dell'hub E quant'altro ancora Più vari token Quadratini colorati Che servono per le energie Mal funzionamenti Scoperte E quant'altro Di solito un token rosso È per un settore danneggiato Un token verde Invece vuol dire Che quel settore lì Della base Funziona perfettamente Questa ragazzi Questa ragazzi è l'app del gioco Vi faccio vedere un pochino Come funziona Perché vi ricordo Che a differenza di giochi Tipo le case della follia Della Fantasy Flight Questa è un'app Che sì Dovete avere per forza Io tra l'altro L'ho appena scaricata Su PC Ma la potete scaricare Anche per iPhone E Android Per forza Non è invasiva Come quelle dei giochi Della Fantasy Flight Però comunque vi serve Soprattutto per gli eventi E per il regolare svolgimento Del gioco E poi tutte le avventure Che vi crea Non avete delle carte in gioco Per le avventure Che vi potrebbero capitare Come ora vi faccio vedere Ma le trovate Direttamente nell'app Potete fare Il modalità campagna Che vi ricordo Essere una legacy Quindi una volta giocata Non si può rigiocare Non me la spoilerate E giocatela sempre Con lo stesso team Di player Di giocatori Perché ovviamente ci saranno Delle buste da aprire Con dentro delle cose particolari Che potrebbero succedere Ed è in versione Legacy Scenario singolo invece Ci dà la possibilità Di fare missioni di costruzione Esplorazione E ricerca Ve ne faccio vedere Una di esplorazione Perché comunque Costruzione Dovrete ampliare la base Fare l'upgrade E tutto quanto Esplorazione Esplorare con i rover Fuori dal lab Quindi gioco Prattamente fuori dal lab Del suolo di Marte E ricerca invece Una piccola parte A metà Fra esplorazione E esterna dal lab Per poi riportare Ovviamente Campioni Per ricercarli Dentro L'edificio principale Dentro lab Dentro la base Su Marte E quindi come primi marziani Capire Come è fatto Il suolo di Marte Ed inviare le vostre Ricerche Sulla terra Comunque Diciamo che La prima È più per ingegneri Quanti siete Io lo attivo Tutti quanti E faccio Avvia missione Difficoltà media Il gioco ovviamente Ora ci fa vedere Come setappare tutto Quindi senza neanche utilizzare Il manuale Andiamo avanti E vediamo direttamente Come setappare La partita Quando siete pronti Fate pronto Ovviamente Storia Da leggere Un giocatore Incaricato Per l'introduzione All'avventura E ci dice Che siamo Nel primo Sol di 7 Quindi nel primo Turno Di 7 Iniziando Nella fase 20 Come vedrete Successivamente Nel video Ci dà Le avarie Aumento avarie Aumento di 1 L'avaria Nel complesso Indicato sopra Quindi il complesso Di sistemi Cliccate E poi qui c'è Una fase evento Che è il diario Personale Di uno degli astronauti Tra l'altro Armstrong Non è a caso Andiamo avanti Fase 20 Posizione Seguente Segnalino Su ogni carta Miglioramento Disponibile Fase successiva Leggete tutto quello Fase morale Perché vi ricorda Tutti quanti Gli step del gioco E poi in questa schermata Che è quella principale Del gioco Abbiamo L'evento attivo Che potete risolvere Subito O più tardi Tanto vedete Turni rimanenti Fino a 3 O potete anche Non risolverlo E potrebbe darvi Problemi a lungo andare Di solito Non vi fa fallire La partita Però comunque Vi darà De malus disumani E qui sotto Ci sono gli altri obiettivi In più comparirà Una terza casella Dove ci saranno Gli eventi Perché se questo Non lo risolvete ora L'evento nuovo Sarà l'evento principale E questo diventerà Un evento passato Che potrete ancora Comunque risolvere Obiettivi di missione Ovviamente da raggiungere Per forza di cose Perché questo è un evento Che capita Ma questi qui sono obiettivi Che dovete risolvere E poi le missioni Dei vari colori Che potrebbero capitare Durante l'avventura E quando come vedrete dopo Con una regola A volte girate Dei token Con il simbolo Di un punto interrogativo O anche nel tiro di un dado Soprattutto nel tiro di un dado Andrete a vedere il colore Cliccherete sopra E darete il nome Di un astronauta Che partirà ovviamente A fare Uno più astronauti Che partiranno A fare questa missione Più che altro Questa avventura Ragazzi Questa è l'app La potete scaricare Direttamente sul computer O sui telefonini Ricordo Direttamente dal Google Play Store O anche dal sito ufficiale Di First Martians Ed è un'app Che per quanto non sia invasiva Dovete avere per forza Perché vi aiuta Non soltanto Vi velocizza il gioco Ma ci sono anche delle cose Come gli eventi Missioni E quant'altro Che vi leggerà Soltanto l'applicazione Quindi non avrete Troppe carte di riferimento A parte la scheda Della missione Che un pochino Si vi dice Quale è l'obiettivo Principale E tutto Ma senza l'app Comunque il gioco Non funziona Quindi scaricatela Leggetela Leggetela a modino Mettetela ovviamente Nella lingua che preferite Spero l'italiano E poi Andiamo avanti Ragazzi Vi chiedo subito Scusa per la qualità Delle riprese Nel caso non zoom A dovere sul tavolo Però sono da solo Perché al momento Mia moglie è dovuta Riscendere a Viterbo Da sui genitori Quindi ho detto Comunque il gioco Mi è arrivato Non voglio aspettare Settembre che torni Il video lo voglio fare E mi ci sono messo A fare un attimino da solo Comunque per quello che vedete Il setup qui davanti Del tavolo Sembrerebbe particolarmente Complicato Come vedete Abbastanza tipico Come tipo di gioco setup Per quanto questo è un gioco Cooperativo al 100% Come tanti altri Quindi anche questo è un gioco Dove o si vince tutti O si perde tutti Non è un gioco sci-fi Quindi dimenticatevi Mostri e cose del genere E ovviamente Essendo i primi coloni Su Marte Bisognerà collaborare E aiutarci Per espandere la base Arrivati in una base Che è già Completamente operativa Come vedete qua E le zone del gioco Si dividono Le zone principali Più quell'esterna Che vi faccio vedere successivamente Si dividono in tre zone principali Che è il complesso dei sistemi Che vedete questa fascia Qua su in cima La zona di carico Che ora vi vado a descrivere Il complesso abitativo Quindi tutta quanta La parte del relax Dove appunto ci sono Gli alloggi del personale E qua giù in fondo Il complesso lavorativo Quindi dove si vanno a fare Le ricerche Le esplorazioni Le costruzioni E quant'altro Mentre invece qua giù In fondo Vedete Le avarie Che potrebbero capitare I sistemi Le ricerche Più i rover Ed altre cose Ma inizialmente Concentriamoci su questa parte qui Che è quella più importante Ah qui a sinistra invece Le barre d'avaria Dei vari Dei vari sistemi Dei vari complessi Allora come vedete Come vedete nel gioco Ci sono cubettini rossi Che sono sempre Un malfunzionamento O un'avaria Cubettini verdi Cubettini bianchi E cubettini neri Partendo da qua giù Che è il complesso Più importante Perché quello che vi fa Vincere o perdere la partita È quello di sistemi Praticamente Cosa vi fa vedere Ci sono vari livelli Per ogni sistema Che partono da un livello 1 A un livello 4 Dove un livello 1 Ovviamente È praticamente quasi rotto O produce poca energia Come vi faccio vedere Fino a un 4 Che è un livello massimo Nei sistemi sono sempre Due ossigenatori Ovviamente senza ossigeno I nostri astronauti Non potrebbero campare Ma soprattutto Anche le serre La serra non potrebbe Produrre niente Non potrebbero crescere piante Ne potrebbe esprigionarsi La vita E quindi non avrebbero Sostentamento Cibo e cose varie Che poi a sua volta Anche comunque La fattoria della serra Produce cibo E produce ossigeno Comunque due ossigenatori E due pannelli solari esterni Quindi come vedete Al momento Sono tutti i cubettini Sul verde Quindi vuol dire Che nella base Funziona tutto Questo è un setup Per una partita principale Più due cubettini bianchi In questo caso qui I cubettini bianchi Sono nei due ossigenatori E nei due pannelli solari Che stanno a indicare Pannelli solari core 5 E nell'ossigenatore Con 4 e 4 Il livello di energia Che al momento danno Quindi ne danno massimo Per fare un calcolo Dell'energia Che viene data A tutta la base Ovviamente sommate sempre Due ossigenatori E due pannelli solari Volete sapere Quanto ossigeno Dà la base? 4 più 4 8 Volete sapere Quanta energia Dà il pannello solare I pannelli solari 5, 5, 10 Dovete sempre fare La somma Più qua su in cima Sono le riserve Vedete le riserve di cibo Che al momento Sono su 14 Le riserve di ossigeno Che al momento Sono 12 E le riserve di energia Che sono 10 Queste qui le utilizzate In caso di carenza varia Nel caso potessero servire Sia chiaro Che tutti e tre Servono sempre Perché sennò I vostri astronauti Andranno in conto alla morte Poi vedete Ci sono altri sistemi Ogni sistema Ha un cursore Qua giù Vedete delle icone In questo caso Questa qui c'ha L'ossigeno E il fulmine Che va a ripresentare L'energia Ossigeno Energia Ossigeno Energia L'ossigeno È dato In tutti i sottosistemi Dove c'è il simbolo L'ossigeno Quindi vuol dire Che prendano A piene mani Dagli ossigenatori Per poter andare avanti Ed essere in funzione Quindi La fattoria Gli alloggi Il medlab Il centro di controllo Il garage Il vano di raccolta Il laboratorio di circa E l'officina Quindi Quanti sono Contandoli sotto Settori che prendono Che attingono Dall'ossigeno Sono 1 2 3 4 5 6 7 8 Noi abbiamo Un valore di ossigeno Di 8 Quindi vuol dire Che tutti i 8 Sono riforniti Infatti vedete Tutte quante Le lucine Sono sul verde Mentre invece L'energia 1 2 3 4 5 6 7 8 Però anche Gli ossigenatori Per funzionare Per essere in servizio Richiedono energia Come vedete Quindi 8 9 E 10 Quindi al momento 10 di energia per tutto E 8 di ossigeno per tutto Quindi tutto quanto è in funzione Nel gioco Voi dovete fare Diverse fasi Che sono divise In praticamente ogni gioco C'ha 8 turni Che sono elencati Sulla scheda della missione Potrebbero chiedervi 8 10 sol Per andare avanti E ogni singolo sol È un turno di gioco Comunque Il turno è sempre diviso In 6 fasi Che sono La fase evento La fase morale La fase produzione La fase azione In cui ovviamente Farete le proprie azioni La fase avaria E la fase pulizia Più vedete queste barre Qua giù E i lati Che sono i vari Malfunzionamenti Dei settori Quindi più questo cursore Rosso salirà Questo qua giù Quando arriverà 5 E poi ovviamente Ripartirà da 0 Perché ogni volta salirà Che questo potrebbe essere fatto Salire da carta evento Perché questo è un gioco Che vi ricordo Si gioca con l'app Tipo le case della follia Non è troppo invasiva l'app Però senza app Non potete andare avanti Magari l'app Vi potrebbe dire Che capitano dei malfunzionamenti E quando questo va su E arriva al livello 5 Si gira una carta Del colore della sezione Come vedete questa È per il complesso sistemi Complesso abitrativo E complesso lavorativo Si gira una carta Si guarda cosa c'è scritto E si vanno a applicare malus Malus che potrebbero essere Perdita di risorse Dal magazzino Qua su in cima Oppure semplicemente Che un pezzo Si rompe Perché si potrebbe rompere Un ingranaggio O qualcosa All'interno di Un pannello solare O di qualsiasi altro Sottosistema Che viene sostituito Da un cubettino rosso E vuol dire E vuol dire che questa zona qui Al momento Non funziona più E questa è Nella fase successiva Ma che ve ne parlo dopo Nella fase degli eventi Per farvi un'infarinatura Ragazzi Generale Nella fase degli eventi Si prende l'app E si guarda che cosa succede Gli eventi potrebbero essere Missioni O cose da svolgere In particolare Che ne so Si è rotto un sistema Va riparato C'è stato detto Di andare a fare una missione all'esterno Bisogna andare Una fase di pulizia O anche perché no Qualcosa che capita Al nostro equipaggio Gli eventi sono tutte cose Che dovranno essere risolte Subito O successivamente Però Dovrete risolverle Perché nel 99,9% Quindi sempre Dei casi Se non risolte Sono cose che vi porterete avanti Per tutto il gioco E vi potrebbero portare A malus grossi O addirittura All'esplosione della base O alla morte di un astronauta E ricordo che in questo gioco O si vince tutti O si perde tutti Il primo astronauta Che dovesse morire Che poi vi faccio vedere Punti ferita La partita è finita per tutti Quindi tutti quanti Devono sopravvivere La morte non è contemplata E questa è la fase degli eventi Si passa alla fase morale Il tracciato del morale E questo qua Più sotto c'è il tracciato Dello stress Degli astronauti Vedete un cubettino bianco Che è su un livello di zero E l'altro cubettino bianco Che è a livello di zero Il morale può salire Ovviamente E può scendere Salendo Gli astronauti Guadagneranno Punti morale Che serviranno Per attivare Le loro abilità Non soltanto Anche perché Il morale è troppo basso Dopo dopo comportare i punti ferita Comunque Gli astronauti potranno usarli Per attivare delle loro abilità speciali Che vi faccio vedere successivamente Appunto Sulle carte abilità Comunque Ogni volta che questo cursore sale Tramite eventi O altre cose che succedano Leggete il numero sotto E date TOT Token Ai vostri astronauti Oppure scendendo Ovviamente Li dovrete togliere Dalla scorta Stessa cosa Sotto lo stress Andrà aumentando Tutti i turni E andrà aumentando Di tante caselle Tanti valori Quanti sono gli astronauti in gioco Quindi se è fatta una partita da 4 Salirà Di 4 Oppure per anche lì Altri eventi Altri settori danneggiati E cose del genere Che potrebbero far salire lo stress Praticamente quando vedete Questo cursorino qua giù Questo simbolo Vuol dire che Quell'azione lì Andrà a aumentare lo stress Quando lo stress Arriva a 18 Come vedete sul tracciato Tutti quanti gli astronauti Tutti dal primo all'ultimo Prendono un punto ferita Come vedete qui Sulla casella E in più Subiscono una carta stress Che dovete andarla a prendere dal mazzo Tirarla fuori Per vedere cosa succederà E questa qui È la fase del morale Più fase dello stress Tutto quanto insieme Cosa importantissima Dovete sempre tenere Stress Che poi andrà a scendere comunque Però dovete sempre tenerlo sotto controllo Perché gli astronauti Rischiano veramente Di morire Di impazzire E ripeto Se ne muore uno La missione è persa Si passa Alla fase di produzione Che è divisa A sua volta in altre Sette esottazioni Che sono Ossigenatori Pannelli solari Fattoria Stress Come vi ho detto Principalmente E il complesso Lavorativo Allora Intanto si va a fare La conta degli ossigenatori Guardiamo I due ossigenatori Come vi ho detto Sono al massimo Della capienza Anche qui ragazzi Sono sempre carte evento Perché ora Tanto ve l'ho fatto vedere Qui accanto Quando per una ragione O per un evento O per una carta missione O quant'altro Qui si rompe qualcosa Dovete sempre andare a sostituire Per come c'è scritto qui sotto Che ne so Si rompe Un valore di energia Questa carta qui Nella fattoria 1 Voi lo levate E ci mettete il cubettino rosso E a quel punto lì Questa zona qui Non riceve più energia Però C'è un malfunzionamento Di qualche tipo Che potrebbe aumentare lo stress E perché no Distruggere anche la base Quindi comunque Bisognerà correre a ripari Andarlo sempre a riparare Però All'inizio L'apporto di energia E di ossigeno Come vi ho detto 5, 5, 4 e 4 Quindi almeno che non scendano I valori E non ci siano luci Rosse Da questa parte qui Vorrà dire che la base È completamente alimentata Quindi si va semplicemente A fare la conta Se guarda Ossigeno Quant'è? 8 Tutti gli 8 sistemi Sono a posto Ricevono ossigeno? Sì Ok Quest'altro 10 Andiamo a fare il conto E così via Quindi questa è La fase di produzione iniziale Poi c'è la fattoria Che è un'altra parte Importantissima E Levo un cubetto Ad acquassuma Tanto per farvi capire Perché non trovo La bustina sotto mano Comunque Questi cubettini neri Sono gli astronauti Che sono in gioco Quindi in una partita Da 4 ne mettete 4 In una partita da 2 Ne mettete 2 E così via Da 1 lasciate perdere Ragazzi Questo non è Tanto gioco da 1 Non ce la fate Assolutamente Con un personaggio solo Quindi 4 astronauti E 4 piantine Ogni volta Che inizia la fase di produzione Se tutto quanto è in funzione Quindi arriva energia Arriva ossigeno I sistemi Quaggiù funzionano Voi prendete Un nuovo cubettino bianco Lo tolgo da qui ragazzi Però fate conto Che c'è qua su in cima E lo mettete Nel primo livello Qui dello step Per ogni turno di gioco Che passerà Questo salerà di uno Un altro Un altro Un altro A meno che non ci siano Ovviamente danni Quindi Primo turno è qui Secondo sale qui Il terzo sale qui Quando arriverà il sesto turno Diventerà una piantina Vera e propria E voi la metterete Qui Sempre che ci siano slot Ragazzi Perché se tutte e quattro Di slot Non succederà mai Ma saranno già presi Ovviamente Non potrà esserci Posto per un altro Perché servirebbe Un quinto astronauta Che non c'è Comunque vuol dire Che tutte e quattro Le serie sono prese Ciascuno di questi cubetti Serve per il sostentamento Dell'equipaggio Quindi Fine a che ci sono cubetti Bianchi qui Qui vuol dire Che praticamente Gli astronauti Vengono sfamati Possono mangiare Avere cibo E quindi Non moriranno di fame Si va Al momento delle azioni E le azioni che si possono fare Come vi ho detto Durante la fase Dell'unboxing Ci sono Questi cursori Due per ogni colore Più cursori particolari Nel caso vogliate usare Aiuti Come potrebbero essere Macchinari Droni E cose del genere Comunque facciamo conto Che questo è il nostro personaggio Il viola Ciascun personaggio È legato a un colore Potrebbero essercene Ad esempio Due neri Gialli E così via In questo caso Il nostro personaggio È il viola Due cursori Per un'azione O due azioni separate E le azioni che si possono fare Vengono svolte Semplicemente Muovendosi nei settori Della mappa Dell'hub O anche all'esterno Che poi vi faccio vedere Successivamente Tanto comunque Tanto per darvi Un'infarinatura E con le azioni Che si possono fare Vi faccio un esempio In caso qui ci fosse Un ossigenatore rotto Ci metto Un pallino rosso Qui Un cubettino rosso Nel caso qui ci fosse Un ossigenatore rotto Io potrei dire Va bene Con la mia azione Vado lì E lo riparo Quindi vado E ci metto Vedete Una delle mie Icone La metto qui Qua giù in fondo Una delle mie pedine E dico Ok Vado a ripararlo Regola vuole Che poi come vi ho detto È praticamente l'unica regola del gioco Regola vuole Che mettendoci Solo una pedina Dovrete fare Un tiro di dado Per vedere Se l'avaria È risolta E un tiro di dado I dadi delle avarie Sono questi qui Grigi Un dado Vi dice sempre Se ce l'avete fatta Superare la prova Quest'altro dado Vi dice Se l'avete superata O nel caso di un punto interrogativo È successa Un'avventura Una missione Dall'app Andrete a cliccare Sull'app Che vi dirà Che cosa è successo In particolare Ci sarà qualcosa Da risolvere Di solito Di solito sono imprevisti Ma che possono imprevisti Possono dare sia malus Che bonus E dall'altra parte Anche quest'altro cubetto Qua giù in fondo Ci può sempre stare a dire Se la riparazione È avvenuta con successo Oppure Ho subito delle ferite Quindi Io mettendo un cursore qui Prendo questi dadi Vado a tirarli E mi diranno Quello che vi ho detto E mi diranno Se ho superato la prova Oppure no Sia chiaro Che per aggiustare un pezzo Non basta andare lì E fare una riparazione Ma lo dovete avere Nella zona di carico Da sostituire Quindi in questo caso Un ossigenatore Dovete prendere L'ossigenatore Che vedete Liconcina Quello blu Andarlo Levarlo Lo scartate Che è stato utilizzato E l'avrete utilizzato Per rimettere a posto il sistema Non basta soltanto ripararli Comunque Mettendoci una pedina Andrete a fare l'azione Quindi di tirare i dadi O se invece Volete fare l'azione Sicura Senza tirare i dadi Nel niente Da dire no 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 Io l'azione la voglio superare Perché quel problema lì Lo devo risolvere assolutamente Ci andate a mettere Tutte e due le vostre pedine Quindi mettendoci Tutte e due le vostre pedine Automaticamente La prova sarà superata Senza tirare nessun dado Però avrete dedicato Tutto quanto Il vostro turno azione A fare quell'azione lì Altri giocatori Possono venire a darvi una mano Mettiamo a casa Il giocatore nero Potrebbe dire Io ho una delle mie due azioni Ti do una mano Quindi vengo a darti una mano Ricordatevi che Sono sempre due Uno messo sopra l'altro Quindi l'azione è risolta automaticamente Però La pedina che è sopra Sarà quella che Alla fin fine Subirà tutti i danni E tutte le conseguenze Di quello che potrebbe capitare Perché nel caso di una missione E qualcuno per riparare qui Dovesse prendere un danno Prenderà il danno Alla miniatura Quella sopra Quindi pensate sempre bene Se metterla sopra Sotto O comunque Quello che si mette sopra Dà una mano Ma rischia anche di prendersi il danno E le azioni del gioco Sono principalmente tutte queste Tenere sotto controllo Tutti quanti i sistemi Ossigenatori Energia Azioni di relax Ad esempio Perché potrei andarmi a rilassare Per riprendere punti morale Oppure potrei andare direttamente Al med lab Per riprendere punti ferita Oppure potrei mettermi Nella zona relax Anche qui Per riprendere punti stress O punti morale Insomma Le azioni che si possono fare Nel gioco Non sono tantissime Però la cosa principale Quando si parla di hub Ovviamente Quando si parla di base Voi dovete sempre tenere Sotto controllo Tutto quanto l'hub Perché come parte Un'avaria E vedete che laggiù C'è un tracciato dell'avaria E quel tracciato dell'avaria Laggiù Vi farà tirare Dadi aggiuntivi Sull'avaria Quindi anche questa zona Qua giù in fondo Va sempre tenuta Sotto controllo Perché rischia Non soltanto di farvi andare In avaria Varie parti della base Ma di peggiorare La situazione Quindi se uno di quei cubetti Rossi laggiù in fondo Verdi diventa rosso Vi farà tirare Un dado successivo E per i valori Che verranno fuori sul dado Che ne so In caso di un 3 Non solo Per ogni avaria presente Dovrete alzare Di un cubettino Sul tracciato avaria Ma dovete alzarlo Anche del valore Che vi avrà fatto tirare Quindi ci sta Che in un solo turno Vi parta completamente Un sistema Che ne so Nel complesso abitativo Vi venga fuori Un'avaria E dobbiate girare Una carta Per vedere Cos'è successo Altra regola Della varie È che se un settore Non riceve più energia Ok Quindi Facciamo caso O ossigeno anche Quindi questo settore qui Non riceve più ossigeno Come vedete Quando non riceve più ossigeno Voi potete decidere Di arrestare Quel settore Prendete un token Di arresto Vedete Che vi dà più 2 stress E ce lo mettete sopra Questo cosa vuol dire Che questo settore Visto che c'è un problema All'ossigeno Che al momento Non possiamo risolvere Lo arrestiamo E arrestandolo Praticamente In questa zona qui Non potranno più capitare avarie Perché quando girerete carte avarie Che riguarderanno sta zona Non avranno più effetto Perché la zona è stata bloccata Però la zona Non riceverà più ossigeno Perché a questo punto è arrestata Ma continuerà invece a ricevere energia Se nel caso ci fosse anche Un cubetto rosso Sull'energia Tipo qua giù Voi andrete a mettere Anche Un arresto Energia Quindi ce n'è Un ossigeno E un'energia Quindi cosa vuol dire Che questa zona L'avete bloccata Ed esclusa Non riceve più ossigeno Non riceve più energia Quindi nel caso abbiate Che ne so sempre Un valore massimo di energia Di 10 Contate tutte le caselle Ne rimuovete una Che non sta ricevendo energia Quindi avete un surplus Al momento di 1 Di energia Che vi servirà Per alzare Il tracciato Qua su in cima Quindi tutte quante Le risorse In più Vengono sempre messe Nelle scorte Non potete mai decidere Di bloccare un sistema A vostro piacimento Che ne so Un sottosistema Ma questo è tutto verde Io lo blocco Perché non la voglio Questa zona qui Voglio bloccare l'energia Per metterla da parte No Potete bloccare sistemi Soltanto che hanno Un'avaria O all'ossigeno O all'energia Quindi le azioni Che dovete fare Nel vostro tunnel All'interno della base Sono quelle di Mandare avanti la serra Per mangiare E tenere sotto controllo Tutti quanti i sistemi Perché se si rompe qualcosa La base E non è riparato La base Rischia di esplodere E la partita è persa Tra le altre azioni Si può anche andare all'esterno Durante la missione Ma perché Anche no Se volete andare a farlo Anche out missione Senza eventi O obiettivi particolari Potete andare A esplorare Marte Anche perché Non avrebbe senso Sopravvivere soltanto lì Siete scienziati Non siete survivor Quindi Non siete caduti lì Su Marte per caso Non dovete soltanto Sopravvivere all'interno Del lab Ma anche esplorare all'esterno Per Per scoprire Novi campioni Dati Ma anche per esaminare Appunto Il suolo di Marte E come vedete In questa zona qui C'è il lab centrale Che è la base Dove voi siete dentro E si sviluppa il gioco Più vari anelli Vari token Varie zone della mappa Che sono Anello 1 Anello 2 E anello 3 Come vedete Anello 1 Per quelli più piccoli Zona 2 E zona 3 E poi diviso ovviamente Nei punti cardinali Per andare all'esterno Avrete bisogno di rover Il rover Questo qui Quello più piccolino Vi dà un bonus Di 2 Al movimento E ovviamente serve Unicamente per muoversi Più veloce Sulla mappa Mentre il rover 2 Vi dà soltanto Uno in più di movimento Però vedete Quello con la gru Che vi dà varie azioni Tipo per la ricerca Per gli scavi E per cose varie Questo si muove Più lentamente Dell'altro Ma serve Vi darà dei bonus Per altre azioni Quando voi andate Andate a esplorare All'esterno Intanto i rover Devono essere in funzione Perché nel caso Di eventi Avarie E cose del genere Un rover potrebbe avere Uno di questi token Che è un token Di guasto E prima di poter Andare a giro Con il rover Lo dovrete riparare Come si ripara Ragazzi è lo stesso Andate sempre nella zona Tirate un dado Se volete fare l'azione Per tirare Per vedere se è successa O ci mettete Invece che una pedina Ce ne mettete due Per non tirare i dadi E l'avete risolta automaticamente Le prove sono tutte così Una pedina Tirate i dadi Due pedine Risolta automaticamente Mettiamo caso Che noi andiamo a esplorare Usando il froggy Quindi il rover Quello più piccolino Dovremo partire Sempre dal lab E spostandoci dal lab Vedete che ogni azione Di distanza Costa una pedina Un movimento Cosa vuol dire? Voi siete a bordo Del rover Quindi fate conto Che ci avete messo Un'azione A meno che non vogliate Dedicarvi ad altro Perché il turno È lungo Si fa conto che un turno È una giornata intera di gioco Quindi potreste dire Con la prima azione Riparo qualcosa O ricerco qualcosa All'interno della base Con la seconda pedina Invece vado a giro Con il rover Oppure potreste dire No no Io sto fuori con il rover Tutto il giorno Per andare ad esplorare Quindi facciamo caso Che ci ho messo due pedine Quindi dovete contare Che già questo rover Ha due azioni In più In più In più le due azioni Che il rover vi dà Quindi se vi volete Spostare in questo settore Costa uno Ce la fate tranquillamente Perché tanto muovendovi Da qui a qui Avete visto che Il rover Vi richiede La distanza Vi richiede Una casella soltanto Uno meno soltanto Mentre voi avete Quattro azioni Quindi voi andate a girare Una di queste caselle qui Che devono essere Sempre tappate E la rivelate Mettendola qui Rivelandola ovviamente Fate conto voi Che con il rover Siete su questa zona Non ce la metto sopra Per non coprirvela Vi dice le azioni Che ci sono Nel caso Se si subiscono danni Punti feriti O cose del genere Perché potrebbe essere Un terreno impervio Più ogni altra cosa Che succede qui sotto Vi dice che avete usato Una delle vostre azioni E qui vi dice Che potreste trovare Addirittura dei cubetti Di cerche E cose del genere Perché andare all'esterno Serve per trovare Risorse di ricerca Che sono i cubetti blu Nel gioco Questi qua Sembra la meth Di Breaking Bad Questi cubetti qui Sono le ricerche Ricerche che dovrete portare All'interno del laboratorio O nel caso Dell'altro rover Quell'altro più grande Con la grulla Le potrete fare anche all'esterno E vi serviranno Nella modalità campagna Per dare Sbloccare Nuove abilità Per i vostri astronauti E personaggi Nella modalità normale Serviranno invece Per avere bonus E cose varie All'interno del gioco Perché vi ricordo Che nel gioco Si possono fare anche Upgrade Alle strutture Si possono fare Upgrade vari Che andranno a potenziare Tutto quello che c'è Dentro le strutture Che ne so Nel med lab Potrebbe servire un personaggio Che faccia da medico Per curare gli altri giocatori Invece mettendo lo scanner Il bio scanner Non servirà più Perché ci aiuterà Direttamente La tecnologia Che queste zone Le abbia scoperte Tutte queste zone Io da qua giù Per arrivare qua giù In fondo Dovrò fare il conteggio Ovviamente Quindi un'azione Vedete meno uno Un'azione Due Tre Quattro Cinque Per arrivare qua giù Mi servirebbero Cinque azioni E in più Passando in questi territori Andrei qui A beccare un danno al rover Perché vedete C'è il simbolo del rover rotto Qui andrei a beccare una missione E poi quant'altro Qui in altra missione Tutti quanti I cursori che vi dicono Che cosa succede In questa zona Ma anche Soprattutto Che possibilità c'è Di trovare oggetti Per le ricerche Quindi mettiamo a caso I miei sposti comunque Con le mie quattro azioni Perché uso I due delle pedine Più i due del rover Potrei fare Uno Due Tre Quattro E arriverei qui Nel prossimo turno Andrei ad esplorare fuori E questa praticamente Ragazzi È la zona di Esplorazione esterna Che serve per Trovare ricerche Cioè avviare ricerche Fuori Con rover quel lato O dentro la base O anche semplicemente Appunto per esplorare Il suolo di Marte Che potete farlo liberamente O magari ve lo sta richiedendo Una missione Completano Il pavolo di gioco La scheda Libero un attimino qui Vi faccio vedere subito almeno La scheda del personaggio Dove su ciascuna scheda Del personaggio Dovrete sempre Andare a mettere Un cursore rosso Un quadrettino rosso Che saranno i punti ferita Ogni volta che il personaggio Subirà un punto ferita Lo scalerete di uno Quando arriva qua giù in fondo Ovviamente Sarà morto Quindi quando uscirà Dall'ultimo punto ferita Il vostro personaggio Sarà morto E ogni volta che superate Andate nella casella Con accanto un cuoricino Dovrete sempre tirare fuori Una carta condizione Le carte condizione Si mettono accanto Al personaggio E praticamente La condizione potrebbe essere Un malus vario Tipo che ne so Meno uno al movimento Oppure semplicemente Potrebbe essere qualcosa Legata allo stress Che si alzo al morale E quant'altro Ricordatevi che Regola del morale Vuole che se non avete Abbastanza Cursorini blu Vi ricordate il morale Ve l'ho detto all'inizio Se nel caso subiate Meno due al morale Non c'è problema Ne levate due Ma se doveste subire Meno tre al morale E voi ce ne avete Soltanto due Due li togliete E il terzo morale Che non potete togliere Perché non ci avete Cubetti Prenderete punti ferita Completano la scheda Del personaggio Le tre carte Abilità Che nella modalità Campagna Le dovete sbloccare Con le scoperte all'esterno Nella modalità normale Ce l'avete già Di partenza Ogni volta che ne utilizzate Una La dovete andare a tappare Per utilizzarla Dovete vedere Il costo che hanno In punti morale Quindi questa costa Due Tre O quattro Spendete i vostri punti morale Se li avete Questi qua giù Questi token ton di blu E potete compiere L'azione che c'è scritta Lì sotto L'ultima fase È quella di pulizia In cui si stappano le carte Si guardano i punti ferita Si rimette tutto quanto A posto Il tavolo di gioco E siamo pronti Per andare avanti In un prossimo turno Ragazzi Questo Molto infarinato È molto 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 Anche perché non voglio Non mi interessava E non voglio fare tutorial Sul mio canale Perché tanto Secondo me È togliere anche la bellezza Di leggere il suo regolamento Per la prima volta Poi se serve un chiarimento Mi fate una domanda E ve lo scrivo sotto il video Però più che altro Voglio darvi un'infarinatura Per capire se il gioco Vi è più a piacere Oppure no Io ragazzi Ancora una volta Mi scuso per la location E tutto quanto Per fare l'intro E la chiusura Poi al solito Quello Sono andato su Veramente in pantaloncini Quasi nudo Per far sudate Le pene dell'inferno Però l'ho fatto Però non ce la facevo più È veramente troppo cardo Quindi l'apertura Alla chiusura La faccio direttamente La faccio di qua Comunque ragazzi First Martians Avete visto di cosa tratta È un gioco fondamentalmente Vi ho dato un'infarinatura Comunque è un gioco Fondamentalmente facile Ve l'ho detto Non è complicato Leggi le recensioni E lo scarti Forse secondo me Sbagliano anche un pochino Tanti siti di recensioni Ma sicuramente Ne capiscono anche più di me Per l'amor di Dio Non voglio dire il contrario Però un pochino Sdubi la gente Perché lo fanno passare Come un gioco troppo complesso È un gioco che richiede Dedizione Sicuramente un paio di partite Però più che altro Un gioco che Non è tanto snello C'è tante cose Ve l'ho detto Non è complicato Ma è complesso C'è tante cose Da tenere sotto controllo Però le regole Sono veramente facili Una cavolata Sicuramente c'è da applicarsi Un po' di più Non è come uno zombie Sidecarry Vi tiri una vagonata Dai dadi Ammazzi gli zombie Finisce lì Ecco c'è da tenerci Un pochino più l'occhio E questo è un gioco Forse Questo mi trovo d'accordo Con tutti i recensori Di nicchia Perché non è un gioco Per casual gamer Assolutamente no ragazzi Perché veramente lo comprate E lo rivendete È un gioco per hardcore gamer E soprattutto gente Che adorano La scienza e lo spazio Non tanto lo sci-fi Perché qui non ce n'è Dimenticatevi Qualsiasi cosa Però è un gioco scientifico Però comunque vi deve piacere L'esplorazione spaziale E l'idea Mi piace da morire Se domani La NASA dicesse Mi servano tre stronzi Perdonate la parola Ma la verità Mi ci metto Per andare su Marte Tre rincoglioniti Per andare su Marte Missione di sola andata Non c'è ritorno E nel 50% dei casi Morirai Poi ci sta che stai lì Sviluppi Una cultura Non la vostra società Rimani Però rimani lì Non torni più sulla Terra E potresti morire Io ci vado Perché vi giuro È il sogno dell'uomo Iniziare non tanto a colonizzare Quello spero di no Colonizzare lo spazio no Perché Non vorrete mica portare L'essere umano Su tanti altri pianeti E qui chiudo Però perlomeno Spostarsi e vedere Anche qualcosa di nuovo Altri pianeti Ci sono miliardi di Terre E esepianeti Che ci aspettano Quindi Sarebbe banale No? Avere sviluppato razzi Tutte quelle tecnologie Per poi rimanere ancorati Sul nostro pianeta d'origine Sempre che lo sia Veramente Ma non voglio divagare Questi giochi qui Buttano fuori il peggio di me Comunque A parte le cavolate ragazzi È veramente un bellissimo gioco Se gli devo dare un voto Gli do assolutamente Un 7 e mezzo su 10 Meritatissimo Però è un gioco Che secondo me Il caso al player Non lo dovrebbe comprare Dovete Avere intanto Un bel gruppo affiatato Che gli piacciono questi giochi Perché è un gioco Che magari presentate A persone Che li rubano giochi di carte O giochi veloci Con i dadi Lo fate strippare Lo fate impazzire Non vede l'ora che finisca la serata Che finisce la partita Quindi comunque serve Un tipo di Di player Di giocatori Sicuramente più avvezzo A giochi del genere Comunque più hardcore In gergo dire Un 7 e mezzo Assolutamente E ragazzi Poi trovate In descrizione Tutti quanti i nostri link Iscrivetevi a Maledetti Dadi Che è la nostra pagina Instagram Che teniamo sempre aggiornata E dopo il canale YouTube È la cosa in assoluto Più importante Che abbiamo Casella postale Nel caso vogliate mandarci Non lo so Un gioco da tavolo Del materiale Un gioco di carte Un wargame Che noi sempre Recensiremo E vi ringrazieremo Pagina Taipei Se volete supportare Il nostro progetto Con una donazione Tutti i mesi Con un abbonamento Forse anche un euro Due euro Qualcosa Ci fanno come Insomma per acquistare Giochi Macchinari Anche una nuova telecamera Luce Illuminazione a led E altro Per un condizionatore Per il son palco Ovviamente sto scherzando Il sito dove acquistare Il gioco Assolutamente ragazzi Prendetelo Perché merita da morire Però prima di prenderlo Magari cercate di capire Se è un gioco Che fa per voi O meno Io spero che il video Vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti First Martians Che ancora una volta Ringrazio la Pendragon Per avermene fornito Una copia Grazie ragazzi Veramente di cuore E niente Fatemi sapere cosa ne pensate Alla prossima Marziani Ciao